Non più le imprese al servizio dello Stato, ma lo Stato al servizio delle imprese. Bisogna rimettere il lavoro al centro, quindi detassare i dipendenti e detassare le imprese, perché sono le imprese, sono i dipendenti, sono le realtà produttive quelle che creano la ricchezza, la ricchezza che poi viene distribuita sia con le tasse ma anche con i consumi, e che crea il benessere al quale noi siamo abituati. L'accettazione che noi sentiamo oramai come prioritaria, che siamo un po' in crisi di identità come imprenditori, e la sala non gremita l'ha dimostrato, siamo accettati, vogliono che gli imprenditori restino sul territorio, gli imprenditori del territorio, le piccole imprese che costituiscono l'ossatura portante della realtà produttiva italiana, tutto qua.